Questo quadro ci descrive Firenze e più o meno il tumulto dei cionpi. Cominciamo a descriverlo. Che ha successo, professore? Allora, il tumulto dei cionpi è una rivolta degli operai dell'industria tessile, fondamentalmente. Perché la Firenze del Medioevo, come altre città italiane, è una grande città industriale. Può sembrare anacronistico, no? Ma c'è l'industria, l'industria tessile per l'appunto dell'abbigliamento. L'unica differenza rispetto ad oggi è che non hanno i capannoni. Gli operai lavorano a domicilio, però è un'industria nel senso che ci sono degli industriali che comprano la lana all'ingrosso. A Firenze tutti i giorni entrano carovane di muli, carichi di balle di lana grezza, che poi viene distribuita a casa. E ci sono quelli che la lavano, quelli che la puliscono, quelli che la filano, quelli che la tessono. Tutto un mondo di operai pagati pochissimo, che fanno la fame, mentre gli industriali si ingrassano. Una città ricca, la più ricca Firenze della Francia, diciamo. No, non c'è confronto. L'Italia, tra Medioevo e Rinascimento, è il paese più ricco del mondo, del loro mondo. Certo, c'è una quantità di soldi che altrove si sognano. Però questi soldi, fondamentalmente, i soldi e il potere politico in città li hanno gli industriali, anche i grossi artigiani, i mercanti, ma non il proletariato degli operai, per l'appunto. Ai quali non è neanche permesso organizzarsi. E questa è una cosa cruciale, perché Firenze è una città governata dalla confindustria, diciamo così. Confindustria, confartigianato, le associazioni dei padroni e dei padroncini, degli imprenditori, grandi e piccoli, loro eleggono direttamente il governo. E gli operai, invece, non contano niente da questo punto di vista. E la rivolta dei cionpi è una rivolta, appunto, degli operai del tessile, i quali hanno anche delle rivendicazioni, diciamo così, sindacali. Non vogliono più essere multati, puniti dai rappresentanti dei padroni, che prima facevano tutto quello che volevano. Ma soprattutto hanno rivendicazioni politiche. La cosa affascinante è questa, cioè loro hanno capito che lì i padroni organizzati eleggono il governo. E quindi chiedono di potersi organizzare anche loro, formare anche loro delle arti, come dicono a Firenze, e quindi anche noi partecipare a eleggere il governo. E si rivoltano. E si rivoltano perché, come dire, il governo, in mano alla grossa borghesia, non vuole cedere, non vorrebbe cedere. La vita politica nei comuni italiani è una vita politica molto violenta. È una cosa strana, perché da un lato è una vita politica molto simile alla nostra, fatta di consigli che si riuniscono, ordine del giorno, si vota. Si riunioni continue. Poi però la violenza è sempre dietro l'angolo. Come finisce la rivolta, professore? La rivolta finisce in apparenza bene, nel senso che, è molto istruttivo, gli operai riescono ad ottenere l'alleanza dei piccoli artigiani, dei piccoli commercianti, i quali per una volta si sentono più solidali con quelli più poveri di loro, anziché con quelli più ricchi di loro. E con questa alleanza riescono a ottenere effettivamente all'inizio. Nascono delle nuove corporazioni e si vede questa cosa inaudita, i cronisti sono scandalizzati. Tra i priori che governano la città, adesso c'è anche appunto un operaio che non aveva neanche i soldi per comprarsi un paio di calzoni e che va a Palazzo Vecchio vestito, appunto, non voleva neanche farlo entrare. Poi invece era uno dei priori. Questa cosa però purtroppo non dura a lungo. Cioè dura per un po' di tempo e poi l'alleanza, sa come funziona, i ricchi, i grossi cominciano a dire ai piccoli artigiani ma vi conviene stare con questi poveracci, non vi conviene stare con noi piuttosto. E alla fine vengono battuti e tutto quello che avevano ottenuto si perde. Noi abbiamo vissuto in questi ultimi anni delle situazioni di scandalosa sfruttamento del lavoro e quello che è successo a Rana Plaza a Dhaka in Bangladesh con un incendio con degli operai in condizioni spaventose in cui sono morte centinaia di persone è istruttivo anche perché ha aperto ai nostri occhi su delle situazioni di sfruttamento comparabili credo a quelle medievali. Guardate. Ed ecco i manifestanti, tutti i giovani operai appena usciti dalle fabbriche. Il nostro salario deve essere di 8.000 taca, 75 euro. I nostri salari devono essere aumentati, dobbiamo arrivare a 8.000 taca. La polizia continua a spararci, non ci lasciano scendere in strada per protestare. Il salario minimo degli operai del tessile è troppo basso Così non possiamo andare avanti, dovrebbe arrivare a 8.000 taca. La nostra richiesta sono 8.000 taca. Ma quant'è il salario adesso? Il salario vero? Quello che prendiamo davvero sono 3.000 taca, 28 euro. Sono una miseria, 28 euro, sono una miseria. Potete vivere con 28 euro al mese? Abbiamo fame, non possiamo neanche mangiare con 28 euro al mese. E' come se certe dinamiche fossero sempre terne, professore, no? Ma assolutamente sì, nel senso che, come dire, la storia umana ha questa caratteristica, che da un lato ogni epoca cambia, ha i suoi problemi, le cose non avvengono mai uguali, però al tempo stesso noi esseri umani siamo sempre lo stesso tipo di bestia, e comunque andiamo a sbattere sempre negli stessi muri, facciamo sempre gli stessi sbagli, e quindi diciamo, il fatto che chi organizza il lavoro degli altri ci vuole lucrare e che raramente sa dove fermarsi, ecco, questa è una cosa che trovi nelle società più diverse. Torniamo però al XIV secolo e ai comuni, con queste immagini e poi con le riflessioni del professor Barbero. Dopo l'anno 1000, all'interno dei borghi in espansione proliferano i cantieri. Chiese e cattedrali più imponenti sostituiscono i vecchi e modesti edifici dell'alto medioevo. Le torri si innalzano sopra alle residenze dei nobili. La crescita della popolazione urbana, che durerà fino alle catastrofi demografiche del Trecento, è sostenuta da un'altrettanto impetuosa crescita economica. Nelle città la popolazione si diversifica, i nuovi ceti di mercanti e bottegai si affermano e garzoni e lavoranti arrivano dalle campagne. Queste nuove comunità cittadine desiderano amministrarsi in maniera sempre più autonoma rispetto al potere dell'impero. È il periodo dei comuni. Che è uno dei grandi periodi della nostra storia? Assolutamente sì. In realtà i comuni ci sono stati in tutta Europa, però solo in Italia hanno avuto uno sviluppo fino a diventare delle città-stato indipendenti. Perché l'Italia non aveva un re suo italiano. Il re d'Italia era il re di Germania, l'imperatore. Quindi stava sempre al di là delle Alpi. E quindi questo da un lato, dall'altro il fatto che appunto quell'Italia in mezzo al Mediterraneo nelle condizioni economiche del Medioevo è una posizione straordinaria. L'Italia è come dire lo hub in cui tutte le merci che arrivano da Oriente vengono poi portate nel resto d'Europa. Passa tutto da noi, passa tutto da Venezia, da Genova, da Pisa e poi dai passi alpini, fermandosi a Milano e lasciandoli un po' di soldi, di solito. Quindi l'Italia è un paese straricco che non ha un sovrano suo capace di tenere a freno la forza esuberante di queste comunità cittadine. Quindi solo in Italia i comuni diventano stati indipendenti. E quindi mentre negli altri paesi, quando si racconta il Medioevo, si racconta la monarchia, la crescita della monarchia francese, Giovanna d'Arco che salva la Francia, ecco. Da noi invece quello che ci piace raccontare è la potenza dei comuni. Non voglio usare categorie marxiste, ma dal punto di vista degli scontri di classe che succedeva ad esempio nella Firenze del Trecento? Ma appunto c'è stata grande discussione sul fatto che si potesse parlare di classe perché, come dire, la storiografia marxista vedeva la lotta di classe dappertutto. E ovviamente con queste rivolte medievali andava a nozze. E suscitava forti opposizioni in una storiografia che potremmo chiamare, diciamo così, borghese che invece aveva piacere a dire, come accennava anche lei all'inizio, no, ma figurati, erano quattro scalzacani, poveracci analfabeti, cosa vuoi che capissero? Si ribellavano quando avevano fame. Poi invece uno va a vedere queste rivolte che io racconto. Sì, ricordiamole. Ecco sì, c'è la grande rivolta dei contadini francesi, la Jacquerie, 1358. Poi c'è la rivolta dei cionpi a Firenze, vent'anni dopo, 78. La grande rivolta delle campagne inglesi, tre anni dopo, 81. E poi una decina d'anni dopo una piccola rivolta che pochi conoscono, ma bellissima, nel Canavese, in Piemonte, quindi la rivolta dei Tucchini. Ora, nessuna di queste rivolte avviene in un anno di carestia. Il 300 è un anno, noi conosciamo benissimo il movimento dei prezzi, sappiamo in quali anni il raccolto era andato abbastanza bene e quindi il pane costava poco, e in quali anni invece il raccolto era andato male e il prezzo del pane era schizzato. Ora uno si aspetterebbe che si ribellassero quando il pane costava caro, neanche per idea. Si ribellano negli anni buoni, quando si sono abituati anche i poveri a mangiare un po' di più e a stare un po' meglio. E allora cominciano anche a chiedersi, ma perché però noi siamo i poveri? Perché quegli altri comandano e noi no? E quindi certamente a quel punto emerge, per dirla in termini marxisti, una coscienza di classe. Certo, magari non sempre così lucida, ma lo si vede bene anche nelle rivolte delle campagne, anzi lì si vede ancora meglio nelle rivolte delle campagne. Perché lì il discorso, per esempio i contadini francesi si ribellano contro i nobili dicendo va bene, noi tutti siamo sudditi dei nobili i quali comandano, mantengono l'ordine, hanno tutti i privilegi, noi ci spacchiamo la schiena a lavorare, paghiamo, e loro ci dicono che però loro sono quelli che combattono per difendere il regno e loro rischiano la pelle per difendere il regno. Ma, guarda caso, c'è la guerra dei cent'anni, la grande guerra tra la Francia e l'Inghilterra, i nobili francesi subiscono una sconfitta dopo l'altra, il re di Francia viene catturato dagli inglesi, quando c'è questa rivolta della Jacques Rie, il re di Francia è a Londra, prigioniero, e i contadini francesi a un certo punto cominciano a dire ma allora esattamente perché noi manteniamo i nobili? A cosa servono, visto che non è vero che difendono il regno? Poi naturalmente diciamo che questa coscienza di classe in una società abituata alla violenza li porta a ragionamenti un po' estremistici, perché poi in sostanza il ragionamento dei contadini era va bene, una volta che siamo tutti d'accordo che i nobili non servono a niente, ammazziamoli tutti. Questo è. E questo è. Che è un po' quello che accadde nella rivoluzione che stiamo per vedere in una sintesi, di nuovo un po' spericolatamente, le differenze fra le rivolte popolari e una rivoluzione. Alessandro Barbero possiamo fare anche questa domanda dopo queste immagini? 26 agosto 1789, l'Assemblea vota la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. È il caposaldo della nuova società moderna che decreta come principio fondamentale l'uguaglianza di tutti davanti alla legge. Tuttavia le manifestazioni e i moti rivoluzionari non si placano. Il 2 ottobre del 1789 i sovrani, durante un banchetto, calpestano la coccarda tricolore, emblema della rivoluzione. Marat esorta allora la popolazione all'insurrezione. Il clima di terrore che si sta diffondendo in Francia è un avvertimento per tutti i troni d'Europa. Con la presa della Bastiglia è stata accesa la prima scintilla della rivoluzione, un colpo violento che sarà il primo di una lunga serie. Rivolte, insurrezioni, ribellioni, rivoluzioni. Ma dunque, io direi che rivolte, insurrezioni, ribellioni, bene o male le potremmo anche accorpare in un'unica categoria, tumulti appunto. Ma diciamo, una risposta tradizionale, e che secondo me è sbagliata, sarebbe, vabbè, rivolte, tumulti, insurrezioni sono cose senza caponecoda, senza una guida chiara, senza un'ideologia, senza un obiettivo preciso, mentre le rivoluzioni sono quelle che vengono fatte sapendo bene che cosa si vuole ottenere. Ora, almeno, i casi specifici di rivolte medievali che io ho raccontato in questo libro ci dicono un'altra cosa, e cioè ci dicono che in realtà noi chiamiamo rivoluzioni quelle che hanno avuto successo, perché quando hai successo tu capovolgi, rivoluzione vuol dire quello, capovolgere il mondo, fargli dare il giro proprio, quelle che hanno successo sono rivoluzioni, le altre no, ma non è che fosse scritto fin dall'inizio che dovevano fallire, e soprattutto non è che il fallimento è dovuto al fatto che i ribelli, i rivoltosi, gli insorti non avevano le idee chiare, in tutti questi casi è chiarissimo cosa vogliono i rivoltosi, semplicemente vengono sconfitti, e quindi prima o dopo a volte ci vuole un po' di tempo, a volte ci vuole qualche anno, a volte sembra che una rivoluzione si sia davvero realizzata, poi invece in tutti questi casi alla fine le cose tornano come prima. Io ricordo una pagina di Hobsbawm, forse nell'epoca degli imperi, sulla Parigi del 1870-71 e il massacro che subirono gli insorti, che doveva servire da lezione per tutti i ribelli. Le rivolte provocano sempre un inasprimento e c'è un livello di violenza estremo, spesso già nella rivolta, dicevo prima dei contadini francesi che cominciano a dire, va bene ammazziamo tutti i nobili, li cercano e dove li trovano li ammazzano, mentre invece i contadini inglesi ribelli nel 1381, loro sono convinti che il grande problema del regno sono le disuguaglianze appunto giuridiche, il fatto che molti contadini sono in condizioni di servitù e su questo ci sono i giudici che decretano queste cose, ci sono gli avvocati, e allora lì il discorso è la rovina di questo regno è tutto l'apparato della giustizia, quindi ammazziamo tutti i giudici, ammazziamo tutti gli avvocati, tutti i giurati, di nuovo una risposta estremistica, dopodiché anche la repressione è quasi sempre molto violenta all'inizio, brevemente, per poco tempo c'è un momento molto sanguinario, poi una caratteristica invece della società medievale è che passata l'emergenza loro preferiscono sempre accordi, transazioni, anche la giustizia si negozia, se riesci a non farti ammazzare nel momento della repressione iniziale, poi fai intervenire gli amici, le conoscenze, paghi delle bustarelle, ottieni la grazia, tutto torna come prima. Invece devo dire che dopo che ci sono le rivoluzioni che hanno successo, quella inglese, quella americana, quella francese, a me sembra che si siano inaspriti proprio in modo più strutturale, l'odio è più strutturale, si perseguitano gli avversari ideologici fino in fondo, ecco, l'Ottocento e poi di nuovo il Novecento in particolare, l'abbiamo ben visto. Parliamo della rivolta inglese del 1381, però, lo dicevamo, ci sono alcuni fenomeni che ritornano nella storia, Margaret Thatcher nel 90 approvò un provvedimento simile a quello che provocò le rivolte in 1881. Settembre 1990, gli inglesi si ribellano a un'altra creatura del taccerismo, la poll tax. Si tratta di una tassa comunale pro capite, pagata in uguale misura da tutti. Ne risultano quindi danneggiate, soprattutto le famiglie più numerose e a basso reddito. La polemica arriva anche in Parlamento. La Thatcher viene isolata e con la rivoluzione criticata persino dai colleghi del Partito Conservatore. Beh, la signora Thatcher probabilmente non studiava la storia, diversamente da altri grandi leader conservatori inglesi come Churchill. Churchill, c'è una storia straordinaria nel caso di Churchill che durante la Seconda Guerra Mondiale lui parla con David Neven, grande attore, e gli dice che è sicuro che la guerra la vinciamo noi. E l'altro gli chiede, ma come fa a essere così sicuro? C'è perché, giovanotto, io studio la storia. Invece la signora Thatcher evidentemente non la studiava, perché è vero che la grande rivolta del Trecento è legata anche a questa faccenda della poll tax, cioè appunto un tanto a testa. Sei ricco, sei povero, non cambia niente. Sembra strano, ma nel medioevo avevano già capito che le tasse, i ricchi dovrebbero pagare un po' di più dei poveri e in genere cercavano di farlo. E invece la poll tax ovviamente ha fatto arrabbiare. La poll tax è terribile. La flat tax contemporanea ha meccanismi non dissimili però, professore. E certo, perché è sempre uguale per tutti fondamentalmente. Poi è vero che noi rispetto al medioevo paghiamo delle tasse spaventose. Loro, se gli andavi a chiedere di pagare l'1% di tasse, ti ricevano, ma siete pazzi? Non pagheremo mai. Loro erano abituati a un livello di tassazione. Nonostante nel nostro immaginario ci sia il cattivo Principe Giovanni e lo sceriffo di Nottingham che passa di casa in casa, ma loro pagavano pochissime tasse rispetto a noi. Prima abbiamo fatto questo brusco passaggio dai cionpi a Rana Plaza. Adesso vi facciamo vedere una protesta che è un po' un unicum nella storia recente del mondo dello spettacolo americano, perché credo che sia la più grande mobilitazione da 40 anni. Ed è la protesta di Hollywood e anche degli attori, dei sceneggiatori, del mondo legato all'industria del cinema, della televisione, dello spettacolo. E credo che anche questa ci permetta di tentare un paragone con alcune periodiche rivolte o proteste nel corso della storia. 146 giorni come 146 Chuck. Buona l'ultima. La soddisfazione del sindacato degli sceneggiatori dopo giorni di negoziati non stop con la controparte delle major Disney, Netflix, Warner Bros, Discovery. Garanzie sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scrittura e aumento della paga minima. Risultati significativi che di fatto mettono la parola fine ad uno sciopero che, paralizzando Hollywood, ha già mandato in fumo oltre 5 miliardi di dollari. Prossimo passo, la ratifica da parte degli iscritti al sindacato sceneggiatori, mentre gli attori, almeno per ora, restano sul piede di guerra. Qui, professore, non voglio trasformarle in un economista, però tento un discorso. Questa è una protesta fisiologica in una democrazia come quelle nel mondo dell'automotive, le grandi fabbriche americane. Anche Biden, nei giorni scorsi, è andato a portare la sua soledità. Ci è andato persino Trump, è andato a Detroit. Ma insomma, lì chiedo un salario più alto, condizioni migliori, comincia un negoziato e lo ottengo. La domanda che volevo farle è, le democrazie, quando riescono a gestire il conflitto, impediscono le rivolte e le rivoluzioni? O è un discorso sbagliato? Ma bisognerebbe anche definire democrazia, perché noi usiamo lo stesso termine per indicare la democrazia ateniese del tempo di Pericle e i nostri paesi di oggi. Non è la stessa cosa. In ogni caso il conflitto non può mai essere soppresso del tutto. La storia ti dà poche certezze, ma una è che non c'è mai stata una società umana ferma. Non è mai fermo. È sempre tutto in movimento e gli interessi sono in conflitto. Poi un potere oppressivo o un potere molto abile può dare l'illusione di tenere tutto sotto controllo, ma prima o poi il coperchio salta. Dopodiché la cosa straordinaria di queste vicende americane è che scopri che lì i sindacati uniscono ancora o di nuovo davvero la gente, perché qui non è solo il fatto che si protesta per cose sacrosante, ma che si protesta tutti insieme organizzati in sindacato. E questa è una cosa che i nostri antenati del Medioevo sapevano benissimo, perché a parte la parola sindacato, però nel Medioevo tutti appartenevano a comunità, associazioni, confraternite. Nessuno era solo. Tutti avevano in comune con tanti altri degli interessi e li difendevano in comune. E la nostra società di oggi molto atomizzata lo stare imparando dall'America forse, che è così che bisogna fare per ottenere qualcosa. Emilia. Come ci si organizza oggi per protestare, andare in piazza, fare rivoluzioni o rivolte? Quello che vedete qui invece è un grafico dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica internazionale, che a distanza di un anno, quindi un po' di tempo fa, ha fatto un focus sullo Stato in Iran, delle rivolte dopo la morte di Massa Amini. E quello che vi faccio vedere io qui è i numeri, le volte in cui è stato disconnesso l'uso di Internet, in cui sono state fatte delle interruzioni agli accessi. Vedete, qua c'è un accesso normale, un traffico diciamo così normale, e poi ci sono delle montagne russe, perché adesso appunto ci si ritrova, ci si organizza o si fa campagna su Internet. Ricordiamo anche più recentemente che lo stesso Macron, proprio pochi mesi fa, poi non se ne fece nulla, però a seguito delle rivolte in Francia contro la morte del giovane Enael minacciò di provare a chiudere l'accesso alla rete, poi non se ne fece nulla. Però come si organizzavano invece? Questo è molto interessante. Come si comunica, diciamo, il desiderio di andare in piazza o rivoltarsi? Allora, per noi è difficilissimo da capire, perché noi che dipendiamo così tanto invece dalle nostre tecnologie abbiamo per forza l'impressione che senza queste tecnologie la circolazione delle informazioni e l'organizzazione delle cose fossero impossibili. Invece loro, che queste tecnologie non se ne sognavano neanche, trovavano normalissimo che il passaparola sia più che sufficiente. Nessuno si stupiva. Queste rivolte dilagano con una rapidità. Qua di Firenze è solo in città, ma la rivolta francese dilaga da Parigi alla Manica, praticamente, da Parigi alle Fiandre, in un attimo, in un attimo. Come si comunica? La gente si sposta, uno parte dal suo paese, la gente camminava molto, uno faceva 20 chilometri a piedi, noi quando mai li facciamo? Uno li facciamo tutti i giorni. Il contadino parte, va al paese vicino dove abita il suo cugino e dice, sai cosa abbiamo deciso di fare noi? Adesso andiamo al castello e lo prendiamo e lo demoliamo e ammazziamo il signore. Che ne dite? Venite con noi anche voi. Il giorno dopo è già andato un altro a cavallo, altri 50 chilometri. Non ci mettono niente. Mentre scorrono delle immagini tristemente celebri, che sono quelle delle rivolte che seguirono l'uccisione George Floyd e il movimento cosiddetto Black Lives Matter, lei tra l'altro ha scritto un romanzo molto affascinante che è venuto peraltro qui a presentare Alabama, in cui diede la parola a un ufficiale suddista, che era un generale. No, no, era un soldato. Era un soldato suddista che raccontava il punto di vista, tra l'altro basato sui diari di quel... e sul razzismo americano, che è una storia profonda purtroppo. Lei in parte la racconta anche invece in quello dedicato all'11 settembre, quell'altro romanzo fantasmagorico. Ecco, in questi casi uno si domanda però se le immagini e i social non siano addirittura benzina sul fuoco delle rivolte, qualche volta vada addirittura al di là che dice delle intenzioni dei manifestanti. Cioè, se lei fosse al potere, come farebbe a gestire dei fenomeni così? Cioè, Macron quando dice no, io a questo punto li chiudo i social. Perché... perché ride? Perché mi rifiuto di rispondere. Non a caso non sono al potere, o meglio no, non ci sarei comunque, ma non a caso non ce l'ho neanche mai provato, no. Non è il mio mestiere, però... Però io credo che veramente governare le nostre società oggi sia una cosa difficilissima e non ho idea se chi governa davvero senta poi il dovere di tenere sotto controllo queste cose o non abbia fatto il calcolo che comunque queste cose ci saranno sempre, si sfogano e noi sopravviviamo comunque. C'è un'ultima domanda che invece ci riporta al saggio. Non necessariamente sono società povere, lo diceva lei prima a Firenze in quel momento era ricca. Non c'è una correlazione fra società povere, società ricche, società medie e rivolte. Dipende da cosa la rivolta? No, anzi, la rivolta dipende direi sostanzialmente dal fatto che ci sia una certa comunicazione, senso di appartenenza comune, coscienza di classe, avrebbero detto i marxisti, no, ecco, che unisce tante persone che sono più o meno nella stessa condizione. Più o meno, basta il più o meno, perché poi quando parlavo della rivolta francese o di quella inglese si dice rivolte contadine per semplicità, ma in realtà ci sono anche gli artigiani, a volte piccoli nobili di campagna, i preti, sono sempre coinvolti i parroci, in Inghilterra ci sono parroci che sono alla testa dei loro parrocchiani, no? Quindi c'è un senso di comunità rispetto a una controparte, che sia lo Stato o che siano i datori di lavoro, no? Sentita come altro. Quindi ci vuole una società con una certa articolazione, ecco. Io non credo che tra le tribù dell'età della pietra potessero avvenire cose del genere, non c'era una differenza sociale, certo si saranno ammazzati anche loro litigando mille volte, ma non c'era una differenza sociale così forte, no? Quando una società è articolata, con condizioni sociali chiaramente diverse, un potere che funziona secondo certe regole, allora la rivolta è sempre possibile quando si esagera in qualcosa. Bisogna che ci sia un'esagerazione, bisogna che ci sia la sensazione che non si può andare avanti così. Questo è il punto. Abbiamo un minuto proprio su questa domanda. Erano rivolte tutte maschili? Sì, nel senso che, no, per carità, quando c'è la folla in piazza ci sono anche le donne, però poi queste rivolte, come dire, sono cose che comportano l'uso della violenza. E la violenza in generale, gli uomini non si aspettavano che le donne partecipassero. E le donne in generale non si aspettavano neanche loro di partecipare. Quindi in questo senso, certamente sono espressioni di una collettività di cui le donne fanno parte pienamente, ma siccome si tratta poi di menare le mani, loro davano per scontato che le facessero gli uomini. Come al solito è stata una conversazione appassionante. Alessandro Barbero, grazie di essere venuto nei nostri studi per parlarci di Allarme, allarme, i priori fanno carne, pubblicato dalla terza. Questa espressione, dieci secondi, allarme, allarme, i priori fanno carne. È rivolta dei cionpi. Subito prima della rivolta, i priori, cioè il governo di Firenze, hanno avuto sentore che sta succedendo qualcosa. Arrestano degli operai, li torturano in segreto a Palazzo Vecchio per estorcere la verità. In segreto. Però c'è uno a Palazzo Vecchio che non doveva esserci. È l'orologiaio che sta aggiustando l'orologio sulla torre. Questo sente le grida, capisce, corre fuori e chiama il popolo dicendo questa frase che in fiorentino di allora vuol dire i priori ammazzano la gente.